REM 2018, la conferenza del Mediterraneo dedicata all'energia rinnovabile, si tiene a Ravenna mercoledì 14 e giovedì 15 marzo, al Grand Hotel Mattei, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico. Il tema di questa edizione è Industria 4.0 verso una transizione energetica sostenibile. È un'evoluzione che diventa una rivoluzione, parliamo della quarta rivoluzione industriale. Le industrie è importante che si mettano al passo con questi cambiamenti se vogliono sopravvivere in futuro. Un'occasione per far incontrare i più grandi player dell'industria digitale, le società energetiche, i contractors e il mondo accademico e per potersi aggiornare. Parlano delle novità dell'energia, soprattutto il 4.0 come fare un punto dell'avanzamento e soprattutto per il futuro. Le nostre aziende nel settore dell'olio in gas e dell'energia guardano molto al modernamento, all'informatizzazione del sistema. REM è un appuntamento importantissimo per la nostra città anche perché insieme ad OMC fa di Ravenna uno dei punti nevralgici a livello internazionale su tutta la riflessione energetica.